Nicolás Borgogni, ex allievo dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di rivelare un aneddoto piuttosto interessante relativo alla Queen del sabato sera, Maria De Filippi. Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito a questa sua ultima confessione. Nicolás Borgogni e il suo percorso ad amici. Tra gli allievi più amati e chiacchierati dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dobbiamo citare il ballerino Nicolás Borgogni. Parliamo di un talento tardivo, in quanto il ragazzo ha deciso di avvicinarsi al mondo della danza già da adulto e più precisamente durante la fase della pandemia. Non tutti hanno capito il suo talento, ma Raimondo Todaro, ha deciso di offrire una possibilità a quel giovane definito da Maria come, un bello che non balla. Puntata dopo puntata il ragazzo ha raggiunto dei traguardi inimmaginabili nonostante la grande avversione da parte di Alessandra Celentano. Le cose non sono poi evolute nella giusta maniera, in quanto Raimondo Todaro non sembrava disposto a farlo accedere alla fase del serale. Cosa che invece gli ha concesso Emanuello. Il ballerino ha quindi deciso di cambiare squadra anche se, purtroppo, è stato poi eliminato nel corso della seconda puntata del serale. La confessione di Nicolás su Maria De Filippi, a diverse settimane dalla fine del programma Nicolás Borgogni, continua a comparire sui social e ad avere un grande seguito di follower. Nelle ultime ore si è poi recato da Lorella Cuccarini, al fine di prendere parte al suo programma Dimmi di Te, da sempre in onda su YouTube. In questa occasione il giovane danzatore ha ribadito la sua gratitudine nei confronti di Raimondo. Questo gli ha permesso di accedere alla scuola anche se poi le cose fra di loro non sono andate nel miglior modo possibile. Il percorso ad amici è stato molto diverso da quello che si immaginava, ma nonostante le grandi difficoltà non ha mai smesso di credere in se stesso. Nicolás ha poi voluto ringraziare personalmente due persone che all'interno della scuola sono state per lui fondamentali. Stiamo parlando del maestro di danza Montesso e della ballerina professionista Elena, con la quale si è instaurato un bellissimo rapporto di tipo professionale. Le ultime parole pronunciate dal ballerino, sono state invece dedicate ad una figura che per tutti coloro che si ritrovano negli studi Mediaset appare fondamentale in ogni senso. Ci riferiamo ovviamente a Maria De Filippi. Lei è stata descritta dal danzatore come una grande donna molto presente con i ragazzi, e in grado di far riflettere tutti anche nei momenti meno opportuni. Maria è stata molto presente, non solo con me ma con tutti i ragazzi. Si è poi verificato un episodio in particolare che mi ha fatto riflettere molto. Un giorno si è concessa con noi, ci ha chiamato alle 2.30 di notte. Lei poteva delegare e pensarci il giorno dopo e invece no, ha voluto connettersi con noi subito. Questo basta per far capire quanto ami il suo lavoro. Lei vuole fare tutto al meglio, ed è sempre stata sincera nel bene e nel male. Maria mi ha detto che sono il figlio che tutti avrebbero voluto e lei per me è una grande mamma.